Il bilancio poteva essere molto più grave. Nella sfortuna l'incendio è rimasto localizzato in una singola stanza e questo rende anche un po' più agevoli le indagini per capire adesso cosa sia successo. Indagini che sono affidate al nucleo investigativo territoriale dei Vigili del Fuoco. Qui con noi c'è un funzionario, Carlo Cardinali. Ecco, allora, queste indagini adesso su cosa si concentrano? Beh, nel dramma si concentreranno in una sola stanza e questo è anche d'aiuto. Abbiamo capito che tutto è accaduto da questa stanza e da questa stanza purtroppo per quanto due persone siano decedute ci saranno sicuramente gli elementi che ci permetteranno di capire che cosa ha generato l'incendio e soprattutto cosa ha generato questa quantità di fumo da incendio molto rilevante che ha causato altri quattro decessi oltre a una serie di persone che hanno dovuto essere ricoverate perché persone anziane, quindi l'inalazione dei fumi sicuramente ha generato questa necessità. Ecco, a livello di tempistiche sappiamo che tutto si è svolto in pochi minuti a parte poi le procedure di evacuazione delle persone che avete dovuto portare a braccio fuori dalla struttura. Sì, è accaduto questo. L'incendio è stato spento dalla prima squadra intervenuta in quattro minuti circa. La ricerca, diciamo, delle persone presenti qualche minuto in più ma il grande lavoro è stato quello di portare le persone allettate tutte a braccia fuori per garantire la loro sicurezza. Del piano interessato dall'incendio come dei piani superiori. Grazie, grazie mille.